Come un grandissimo incontro di box abbiamo questa, che sembra quasi una locandina più che una foto, signori Oriana Marzoli e Nikita Pelison l'una contro l'altra, ma c'è una frase di Oriana che ha fatto impazzire in particolare il pubblico del Grande Fratello. Una cosa che di certo non è passata inosservata, non c'è altro modo per dirlo, ma prima di entrare nel vivo della faccenda è giusto fare un piccolo passettino indietro tra Oriana Marzoli e Nikita Pelison per capire come si è arrivati a questo punto, perché proprio ai danni della modella, questa brutta uscita della venezuelana c'è stata, quindi capiamo bene le basi. Tra le due le cose non vanno bene sin dagli esordi di questo reality, ma col tempo le cose non hanno fatto altro che peggiorare, altro che... Questo ultimo episodio è avvenuto durante il GF VIP Radio, una sorta di gioco nel gioco. I ragazzi fanno una sorta di diretta radiofonica, ma divisi in gruppi. Tutto ad un tratto però, quando sono state fatte le squadre, Oriana Marzoli è finita insieme a Nikita e ha dato di matto. Con grande maturità, Nikita ha detto lei di passarci sopra e di collaborare in pace. Niente da fare per la bella venezuelana che come una bimba viziata ha fatto sapere a tutti che non aveva nessuna intenzione di farlo, puntando sulla loro, incompatibilità. A quel punto Oriana dice questa frase che ha fatto infuriare molti. Volevo stare con i miei amici e Nikita non lo è. Con grande maturità a quel punto la Pelizzon ha risposto. Però stiamo in questa casa e possiamo fare anche le cose insieme. Chiaramente tanti utenti non l'hanno presa benissimo, soprattutto quelli schierati con la modella triestina. Solo in Italia si poteva osannare una persona del genere. Lo schifo che mi provoca tale atteggiamento, scrive un utente sui social. Poco dopo Nikita Pelizzon ha deciso di sfogarsi un po' con Milena Miconi. Proprio quest'ultima le ha detto. Questa è stata una bella prova. Ti sei messa in discussione in ogni situazione. Ormai tieni duro. Fregatene un poco. Nikita allora ci è andata giù dura con Oriana e a riguardo ha detto. Mi ha detto che sono falsa, che sono superficiale. L'amiconi allora le ha consigliato. Se ti interessa capire, se vuoi il confronto, vai da lei e parlale. Se fa stare bene a te, e ancora Milena consiglia a Nikita di volare alto, superare tutto e sorvolare la cosa. Anche perché in effetti, come dice l'amiconi, manca davvero poco alla fine.